Agosto, mese con Dio Padre. 8 agosto, dal messaggio del Padre. Io sono l'oceano della carità figli miei. Non escludo nemmeno le società diverse, le sette, fedeli e infedeli, credenti, indifferenti. Richiudo in questo amore tutte le creature ragionevoli il cui insieme forma l'umanità. Preghiera riparatrice. Eterno Padre, per le mani di Maria Adolorata ti offriamo il Sacro Cuore di Gesù con tutto il suo amore, con tutte le sue sofferenze e con tutti i suoi meriti, per espiare tutti i peccati che abbiamo commesso quest'oggi e durante tutta la nostra vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per purificare il bene che abbiamo malfatto quest'oggi e durante tutta la mia vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ultimo viaggio, Padre, dona consaluazione alla nostra coscienza nella nostra ultima ora, che per i nostri peccati e il tuo giudizio ci incude terrore già adesso e ancora più nell'avvenire. Dona ai nostri cuori la tua pace, così che possiamo attendere con gioia il tuo giudizio. Novena, ottavo giorno, la fiducia. Accostiamoci dunque con fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia per opportuno soccorso. Ebrei 4,16 Padre Celeste amatissimo, niente ti dà maggior onore della fiducia figliale e profonda. Tu vuoi da noi il dono della nostra fiducia, quale risposta al tuo sconfinato amore. La nostra fiducia ti deve mostrare che noi crediamo nel tuo amore e che gli facciamo spazio nel nostro cuore, così da lasciarci prendere interamente da esso. Tu dici nel tuo messaggio, quanto hai mezzi per onorarmi come io desidero, non vi chiedo altro che una grande confidenza. La nostra confidenza è al tempo stesso la chiave per accedere al tuo cuore di Padre. Perché Padre Celeste brami così tanto la complima fiducia delle tue creature? Perché tu sei il più amoroso, misericordioso e dolce dei padri. Colui che non vuole che i suoi figli siano preoccupati, pensierosi, impauriti da mille cose. No, tu vuoi che noi si viva solo nella pace. Ma questo è possibile solo se abbiamo incondizionata fiducia in te. Perciò anche Sant'Alfonso Maria degli Guori disse Non si può amare Dio nostro Padre meglio che con una fiducia senza limiti. Donami questa fiducia in te, mio buon Padre, poiché nessuno lo amerita come te. Decina del Rosario, contempliamo Gesù, al cui Padre Celeste è dovuta ogni fiducia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Grazie.